buongiorno a tutti da alessio redelli milano italia è un vero piacere essere qui con voi questi pochi minuti per presentarvi un altro dei miei libri uno dei libri storici che ho scritto un libro piuttosto importante dove troverete tutte le tecniche mediche chirurgiche e odonto stomatologiche per il ringiovanimento del volto è un libro che ho scritto a quattro mani con frederick braccini un bravo collega e amico chirurgo plastico che lavora in costa azzurra all'interno di questo volume come vi dicevo piuttosto corposo troverete tutte le tecniche di ringiovanimento fatte per il volto sia mediche chirurgiche odonto stomatologiche io ovviamente ho seguito la parte medica e come al solito come in tutti i miei libri la scommessa quella con delle fotografie di riuscire a dare l'idea esatta di come si esegue materialmente una certa tecnica ho avuto numerosissimi coautori francesi e internazionali e penso che sia un volume interessante un volume completo per chi si approccia all'estetica medica del volto io vi ringrazio molto per essere stati con me questi pochi minuti vi invito a seguirmi sul mio canale youtube che ho alessio redaelli sul mio sito docredaelli.com e potete trovare tutti i miei libri su medicalesthetic.it dove possono essere anche ordinati e vi arrivano a casa in brevissimo tempo grazie mille ciao ciao